Alessia, questo posto è meraviglioso. Sì, vedrai che ci divertiamo. Certo. Guarda, Giussi, c'è il tasso del miele. Certo, è più affascinante. Già. Vieni dal tuo paparino. Ia, ai. Il tasso del miele mi ha mosso il naso. Cattivo, cattivo, miele tasso. Ora andiamo a vedere l'altra città di Zimbabwe. Ok, andiamo. Bene, siamo in una paesina. Alessia, Alessia, togli le scarpe. Va bene. Alessia, stai meglio i piedi? Certo. Alessia, devi infilare i piedini in acqua. Ok. Splash, 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 splash. alessia d'accordo alessia perché non ti metti le scarpe certamente ok alessia ce ne andremo via da questo fiume ok andiamo grazie